Signore vorrei fare un piccolo punto di riflessione per quanto riguarda il film della Disney Il Re Leone Allora l'altra sera ho visto la recensione fatta dalla signora Liletta per quanto riguarda il film di Robin Hood della Disney che era del 73 e allora lei ha fatto un punto di riflessione che in quel film si vedeva uno che vendeva dei palloncini allora si era fatta la domanda ma nel medioevo ci si potevano mai stare dei palloncini allora io le ho risposto sì che ci si potevano i palloncini non erano fatti di gomma come possono essere i guanti di gomma o i profilattici però comunque esistevano perché erano fatti con le budella degli animali non so se ce l'hai presente quando fanno le salsicce che pigliano la salsiccia cioè la carne macinata la mettono dentro alle budella e poi ci fanno la salsiccia che poi viene fatta essiccare comunque non erano proprio dei palloni come possono essere però comunque si facevano i palloni cioè farvi capire perché poi un budello lo chiudi da una parte ci fai un nodo no? e poi dall'altra parte lo gonfi e poi lo gonfi con la bocca no? e poi ci fai un nodo e fai il pallone signori non vi pensate che c'è dicono ah che schifo stai mettendo la bocca vicino a un budello signori ora perché può sembrare una cosa strana no? però un tempo si facevano questi cioè giocare con un pezzo di che ne so di animale morto per le persone non era poi tanto una cosa che schifo perché allora che so si utilizzavano cioè pensate che la gente toccava pure la merda tanto a farvi capire cioè non so se avete presente Milhouse che si metteva a dire a Bart se sei figli un po' di lui la chiamava VV la usi nella parte per azzecaccia la roba ah che schifo però una volta queste cose erano cose diciamo abbastanza naturali comunque quello che volevo dire io di sto film qua no? cioè non è tanto questo che mi sono preso conto che nel 73 la Disney già prese come personaggi protagonisti no? come dire così già dei leoni cioè faceva vedere praticamente non so se avete presente il film della Disney quello lì il re leone in cui fa vedere che sta il leone principale che viene esportato dal fratello tutto invidioso tutta la cosa la e poi il compagnia bella poi il figlio reclama la cosa no perché è stato accusato un sacco di volte di essere stato pigliato un muoco da Kimba il leone bianco un polotto giapponese degli anni 50 no perché negli anni 70 quando è stato ambientato il film di Robin Hood sempre dalla Disney pure la hanno preso il fatto del leone che era il re d'inghilterra che si è dovuto andare a fare le crociate a posto suo c'è rimasto il fratello che era un altro leone cioè non è che ha pigliato proprio totalmente la Disney non è che ha copiato proprio pari pari da Kimbe il leone bianco no anche se quello si chiama Kimbe e quello si chiama Simba è che questo fatto del leone già l'aveva fatto perché da queste parti si identifica il leone come il re degli animali non so se avete presente e allora i gatti sono molto simili ai leoni come comportamento quello lì come si chiama l'ha pigliato vari cioè l'ha pigliato da quelle cose l'ha estabolato il fratello del film il re leone non è che l'ha pigliato soltanto dal film giapponese c'è da quel prodotto giapponese cioè io solitamente non lascio mai difendere la Disney però non è che perché ho segnito in giro tante di quelle comunque per concludere già che sto con la batteria scarica no sia in Cina che in Giappone il leone viene detto anche il re delle cento bestie cioè il fatto che non è soltanto qua che viene visto come il re cioè pure questo è un altro motivo per cui ci si mette sempre il leone come cavolo di tutto ma perché poi ci sta pure il fatto che il leone maschio con la criniera viene equiparata alla corona di un re vabbè basta così va tanti saluti e buon domar non c'è